Scatman's World Bella raga, ciao a tutti la Comandone Veneziana, allora Fioip, subito brutta notizia la nostra Alfonsina, il femminile, hanno rubato a casa, insomma, hanno rubato trofei, tutto, soldini, insomma, praticamente ha perso 100.000 euro quindi ha tutte le abilità a meno uno va beh, qua abbiamo una votazione, punti per i primi 6 piloti questa regola va avanti, infatti, cioè io sinceramente voto sì perché sono dell'idea che possa favorirmi questa cosa, contanto che sono sempre tra i primi 5, 6, almeno con un pilota ok, quanto ho, quanto ho un peso mettiamo 3 voti però le qualifiche non arrivano io voglio le qualifiche, cazzo eh, se con gli sfavoriamo certe scuderie vaffanculo sinceramente guarda quante regole possono cambiare, cazzo, ogni stagione è incredibile mamma mia sei per fortuna ok, sono molto contento di questo e godo ok ragazzi, per le prove libere sono andata abbastanza bene, quindi Italia secondi e terzi e Niccolò Strambi in casa o Deco, era Cristianone, Cristianone veramente è sempre là il porco che duello che duello ragazzi, che duello ok allora assetto gara 2 e aumento con le morbide assetto gara 10, sempre morbide, anche perché le medie aspetta aspetta oddio oh madonna ma che cazzo calma, aspetta un attimo ma come mai così male cazzo adesso mi da questo il mio pilota però veramente non è mai contento, cazzo assetto morbide ah no, ci sono anche le medie 21 giri no, stiamo con le morbide però ma è solo che ma è dura però, cazzo le medie mi danno la possibilità di finire la gara così quasi ad Antonov adesso vediamo forse metto tutti e due ah beh qua qua carburante per 12 giri ok non capisco eh qua setup invece migliore ok ok facciamo così magari ok perfetto ok perfetto vabbè speriamo bene scelta gomme ok carburante sempre 13 giri però però conoscenze facciamo medie speriamo di non cappellare beh atteggia pilota partiamo partiamo sempre rossi e rossi e ok ok vai ragazzi inizia la penultima gara questa sì che fa lamentare la chicca la nostra chicca è sempre prima perché è ultima nel mondiale vediamo come parte oggi perché e si parte ragazzi gran premio d'italia vediamo la balca che ha fatto una ha dominato completamente la gara anton antono diciannovesimo e qua forse sarà un po' diverso staremo a vedere antono già diciassettesimo e qua cominciamo a gestire con il balca vedremo antono diciassettesimo bravo anto eh bisogna preservare le gomme ragazzi eh bisogna preservarle eh però preservando le febbre mamma mia spingiamo un po' di più con antono non trova problemi nel corpo madonna antono dio cristo di ostesa quattordicesimo la nostra balca ciasettesimo antono d'oste sta volando fioi d'oste vola d'oste tredicesimo d'oste ormai ragazzi d'oste andiamo a vedere la balca la balca tiene molto bene il ritmo le previsioni danno pioggia però adesso e attenzione e con la pioggia ne andiamo di merda di solito tanto i box d'oste non l'ho proprio capita anche se è d'oeste però però c'è il nome più semplice no? attenzione si scontrano melo drive trooper melo comincia a piovere fioi speriamo bene quella pioggia noi non stiamo forti eh bandiera gialla incidente per chi per strambi mamma mia speravo speravo Deoeste e Deoeste vola quel porco maledetto come vola il balca safety car virtuale schianto di mustafa non ci credo guarda è stupenda sta roba no l'intermedia è presto per l'intermedia guarda il balca come vola signori Antonov ottavo andiamo a stare tranquilli fioi Antonov sesto dobbiamo finire con le medie poi ragazzi questo è l'obiettivo la cavalcanti fast strap della cavalcanti un puttano nella cavalcanti lo sappiamo purtroppo è il problema della cavalcanti sempre saputo e deve dare tutto adesso deve dare tutto Antonov Antonov e terzo questa è una gara che ci siamo sempre andati bene di solito Antonov sta spingendo come un porco adesso adesso ci sono i pit stop 13 giri alla fine e andiamo con le medie 13 giri facciamo così per sicurezza ok e invece con il balca aspettiamo possiamo attaccare con il balca madonna sta che pilota però ragazzi mamma che pilota speriamo bene fioi pit stop 12 giri ma perchè deve arrivare la pioggia di merda ok mettiamo basso il carburante se no rischiamo tanto 9 decimo qualcuno mette l'intermedia mamma mia speriamo bene fioi ok tanto 9 decimo adesso qualcuno mette l'intermedia su bisogna capire chi ha ragione ragazzi di oeste alle medie ok vai il balca è una bestia comunque un canto 9 ottavo mamma mia la nostra alfonsina ragazzi perchè lei è la nostra alfonsina il temporale c'è rimane leggero speriamo bene fioi speriamo bene la gara nelle nostre mani eh guarda come si guarda com'era grandissimo vai 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 13 giri su 21 anto 9 ottavo per il momento anto 9 quinto signori anto 9 quinto eh però la fox con l'intermedia sta andando bene mi sta recuperando molto eh eh si sta andando bene 8 giri alla fine adesso va arrivare sto cazza di pioggia una vittoria sicura e se così eh adesso la fox c'è fioi la fox vola purtroppo con le intermedie anto 9 settimo lo stiamo davanti ad oeste madonna ottavo anto 9 cristo di un dio ecco eccolo la ad oeste che arriva come un figlio di puttana impressionante impressionante problema meccanico per santana c'è anche gerard di vicino vediamo i pit stop per il troll e soft benissimo pit stop per fox il balca torna in testa anto 9 quarto 5 laps 5 laps stiamo su anto 9 che è quarto c'è dio e dio este è la ragazzi porca puttana devo spingere adesso ti prego antonore devi stare davanti però dio este è veramente un figlio di troia dio este è veramente un figlio di troia fox è sempre in testa mamma mia la fox cosa sta facendo la fox dio este è il dodicesimo dai box dio este dai antono tieni duro questa può essere la grande occasione della tua vita stiamo spingendo un po' di più col balca se no rischiamo di prendere le bombe stiamo calmi fiore stiamo calmi fiore final lap problema del meccanico per la claudiona ti prego balca ti prego balca regalaci il sogno regalaci il sogno balca stiamo un attimo su balca attenzione proprio alla fine no eh cazzo alla fine no alla fine no alla fine no dai balca e il balca c'è seconda vitra consecutiva ma che fenomeno che ho preso ragazzi e antonov terzo e antonov forse terzo yes primi e terzi signori tutti sul podio yes well done blowjob mamma mia grandissima vittoria in italia tripletta cosa ha fatto il bacca fiori mi sto svegliando alla fine signori ma cosa ha fatto il balca due vittorie su due la nostra chicca e si viene squalificata st'altra e doppietta speriamo quindi siamo antisportivi molly fox ed oeste ha perso tanto qua eh mamma mia che occasione che ho l'ultima gara in casa di antono possiamo festeggiare in casa di antono secco doppietta doppietta ragazzi doppietta in casa non ci credo prima doppietta in carriera mamma mia cosa ho fatto fiori doppietta per noi eh adesso si goda e crea la costruttore come? non ci credo devo essere a un punto di vantaggio ma perchè? non ci credo devo stare davanti a lui è l'ultima gara non c'è niente da fare incredibile 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 nella costruttore siamo primi e più dieci no mi fanno impazzire mi fanno impazzire mi fanno impazzire sto gioco sono almeno uno cosa cazzo ha fatto? sesto deve essere sesto e secondo dio cristo mamma mia ragazzi chicca chicca è veramente una cosa schifosa da quanto è forte eh mamma mia grande chicca che acquisto che acquisto no addirittura guadagniamo qualcosa fioi bene bene e per ultima gara ma questo non ho proprio capito de oeste ha preso quindici punti cazzo io venti io diciannove giusto eh si si che doppietta ragazzi però doppiettone sciofiri raga questa è stata una giornata sublima e adesso è un no prevista pioggia dio cristo speriamo bene l'ultima gara però se piove purtroppo antonov è veramente veramente una pippa speriamo bene ragazzi cerca talenti eh l'americano qua e l'abilitazione la dipendenza ha dovinato la mia vita a vent'anni cazzo ok dopo il francesino l'avevo già visto mi sembra si si sono tutti qua devo ancora trovare il fenomeno a 5 stelle però piano piano comunque cristiano cristiano de oeste eccolo qua il figlio di puttana eh questo è forte posta balcatra distrusse se non è vinto la vittura vittoria della gara ok raga un saluto dal comendone veneziano ci dicevi tutto in russia raga adesso si un saluto dal comendone veneziano doppiettone storico ciao